Se andiamo così e fanno un disastro ragazzi Non distruggiamo niente Se magari è stato sul lato così almeno possiamo camminare No, sennò la gente non l'accettiamo Sì, abbiamo un corrido Allora, fare così il volantinaggio lo dobbiamo fare Vieni adesso il volantinaggio Sì, come no? Ma eccoci eh Eccolo, capito? Arriviamo! Sì, buongiorno, buongiorno Buongiorno, buongiorno Buongiorno, buongiorno Bene, finiamo per il mio caffè Sì, salutiamo Ho salutato voi che mi avete visto il volantinaggio Sì, buongiorno Sì, buongiorno mi piace Zingaretti? Sì, mi piace Sì, mi piace Sì, non lo so, ma è ok Si può essere un Presidente Può fare bene nel governo Ma sai chi è? Sì, è italiano Sì Sì, sì 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 Lo so sempre lo so il resto Daph unle Se viene Cì Sì 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 iso Sì 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 non posso votare per lui, ma deve essere aiutato con il Estranero ho capito, buona giornata buona giornata buona giornata buona giornata hai visto? è un'ora che giriamo non so ma ci sono troppe telecamere quindi salutarci dai gazzardo e andiamo via Lorenzo si vive tra il PD e l'erenita mi raccomando non posso votare si mi raccomando vi raccomando ciao ciao